Ehhhhh Hello E cazzo hello 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 guys Ehhhhh Hello team Hello Mi piace questa sensazione Non tanto in arrivo Si Salome Oh yeah The first try Oh, perchè quella faccia Senti Arrenditi a ricca Salome Oh yeah Oh yeah Invece fara Merci fara Doomfist Eh Merci Doomfist Eh Merci Sì If they got FHARA Potato, are you able to hit scan? 5...4...3...2...1 Ok they got FHARA I can kill her the first time, but Vabbè, vabbè wow i cangons to swap i'll take an east gun wow molto bene siamo tutti soldati come back come back come back come back go back go back radurarsi per l'attacco speciale nice e ultrassista carica uff uff i'm first dps and first dmgs guys contest contest the car i'm dead i'm dead marlo uff 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 Grazie è ultimo Sì! 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 Mettetemi al tappeto e continuerei alzheimer La mia ultima si sta caricando Ho bisogno di cure I'm coming Genji Molto vero Hai us ult Push 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 No pick one Got him Tracer on payload Quartark behind guys I'm going point Moira one Moira no bubble Moira no fade Nice Loops is behind on payload Got him Coming Tracer on me One more Tracer still behind Quyzer almost driving Tracer one Tracer one HP inside the house Tracer on left Tracer down Nice Tracer down Tracer down Tracer down They push on the house Ogwan I got Vyvor Un fist in the house I'm dead I'm dead I'm dead I'm dead Ogwan Nice 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 Genji He's winnable He's winnable Nice one Ok I'm coming He almost ult Thank you Look glad Let's say Then I knew Kle könnte We need the島 Oh, non possiamo bene! Push, push, push! F*** that! Zani è slow, Zani è slow! Niiice! Good round! Good round! 0-1 Inversione delle tappe Preparati ad attaccare Seleziona il tuo eroe Allora Allora ci evolviamo solo attraverso come se mi servisse aiuto simulerò la prossima missione l'attacco inizierà tra 30 secondi 5, 4, 3, 2, 1, l'attacco inizierà Jankrat? Jankrat, Reynard? Jankrat 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 Era buono, era buono lei Sì, sì Sto a me si mica si affassava, un diavola Premo F8